Sul Mediterraneo è in atto un cambio di circolazione a causa dell'affondo di una depressione dai Balcani, depressione che pur interessandoci marginalmente influenzerà il tempo sulla nostra regione per l'intero fine settimana, con riflessi anche nei primi giorni della prossima settimana. Per domani, sabato 30 maggio, avremo cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti consistenti nelle aree interne al ridosso dei rilievi, dove non si escludono precipitazioni a prevalente carattere di rovescio. Piogge che nell'arco della giornata interesseranno sporadicamente anche il resto del territorio, alternate ad ampie schiarite. Temperature in diminuzione, soprattutto nei valori massimi, venti deboli in prevalenza nord-occidentali e mare mosso. Domenica 31, alternanza di schiarite ed annuolamenti, con addensamenti consistenti nel corso del pomeriggio. Nuvolosità che sarà associata a rovesci, segnatamente lungo la dorsale appenninica, con parziali sconfinamenti anche lungo alcuni tratti di costa. Temperature senza particolari variazioni, con valori che si manterranno al di sotto della media del periodo. Venti da debole moderati da nord-ovest, con tendenza a disporsi da nord dalla serata. Mare mosso. Nei primi giorni della prossima settimana la situazione tenderà a mutare leggermente a causa di una maggiore disposizione da nord delle correnti. Questo determinerà una maggiore instabilità sul settore orientale della regione, dove saranno possibili ancora rovesci sparsi. Non si esclude che qualche piovasco possa interessare anche alcuni tratti di costa, specie nella giornata di lunedì. Le temperature si manterranno sempre al di sotto della media stagionale e solo da mercoledì potrebbero aumentare unitamente ad un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Per maggiori dettagli vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteosette.it e sulla pagina Facebook Meteo Cilento.